È veramente un piacere oggi essere qui e poter condividere con tutti voi questa iniziativa che per noi è di grande importanza in chiesi e a cui abbiamo tenuto particolarmente ed è un'iniziativa che va proprio ad abbracciare quelli che sono i principi di inclusione della nostra azienda che lo facciamo sia internamente che esternamente. Questa occasione di questa aperipizza con questa pizza amara dedicata alle persone affette da malattie rare è per noi estremamente importante. Sono circa 10.000 le malattie rare per le quali spesso purtroppo non esiste un trattamento o una cura ed è il nostro impegno non solo offrire trattamenti innovativi per le malattie rare ma è il nostro impegno anche offrire un approccio olistico alla patologia e quindi andare anche a toccare temi come quelli dell'alimentazione che sono di estrema importanza per le persone che vivono queste condizioni. Sono importanti perché anche l'alimentazione fa parte di una dieta sana ed equilibrata che può aiutare ad alleviare i sintomi legati a queste patologie ed assicurare una qualità di vita migliore per le persone affette da queste patologie.